C'era una volta un re, no, un pezzo di legno. Compagnia dell'Arancia presenta Manuel Trattini in Pinocchio, il grande musical. Il paese dei malocchi, se ci arrivi non fai più fin. Le feste passano, gli amici no. Ognuno e qualcuno la vita è una storia. Il musical italiano che ha incantato il mondo. Il musical italiano che ha incantato il mondo.